ci siete? vai Bart vai dai te ne faccio il video dai vado piano io vado piano ok 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 Sì Sì, è un giro più aperto, non mi è aspettato con il GP. No, questo è 29 in giro. Ma non ce l'aveva detto. Ma che stai, Valentino? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. io la conosco tanto ma sta qua ho fatto lo spulgo comunque un punto davanti ma la 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 Sì Sì